buongiorno amici un salutone dal vostro adobora allora volevo andare subito avanti con il libro sul transurfing il primo libro sul transurfing intitolato lo spazio delle varianti e precisamente parlarvi del capitolo intitolato le catastrofi molte persone in un modo o in un altro ammettono la possibilità teorica di essere vittime di una catastrofe ma non tutti permettono l'accesso di tale eventualità nello strato del loro mondo ci sono persone che non guardano i serial televisivi non si interessano dei notiziari non si lasciano toccare dagli avvenimenti che succedono a qualcuno da qualche parte del mondo vivono nei propri strati e sono sostenitori di altri tipi di pendoli non si preoccupano del fatto che da qualche parte del mondo un aereo sia caduto ascoltano le notizie di simili avvenimenti con indifferenza mentre masticano la cena le preoccupazioni che hanno gli bastano e avanzano al passaggio indotto sono soggette soprattutto le persone che si interessano si preoccupano e si agitano per disgrazie che accadono ad altri se la vita di una persona non è sufficientemente satura di problemi e preoccupazioni la persona tende a colmare il deficit convogliando la sua attenzione su fatti che avvengono in strati altrui questo tipo di persone legge regolarmente la cronaca nera guardi serial o aspetta nuove notizie di catastrofi e cataclismi la stampa scandalistica e i serial rappresentano l'attività di pendoli modesti e inoffensivi essere devoti a questo tipo di pendoli colma un deficit di informazioni emozioni e sofferenze per contro manifestare interesse nei confronti di pendoli distruttivi come disastri e cataclismi rappresenta una minaccia reale si tratta di pendoli forti e molto aggressivi la frequenza dell'emissione mentale di una persona che rivolge la sua attenzione a simili avvenimenti viene agganciata esattamente come succede con i serial televisivi chi manifesta interesse nei confronti di informazioni negative ne riceve in abbondanza all'inizio il suo ruolo è quello di un osservatore esterno è come se sedesse sulle tribune e seguisse una partita di calcio il gioco però lo coinvolge sempre di più fino a farlo diventare un tifoso accanito ecco che scende in campo e comincia a correre ma senza ricevere per il momento il pallone gradualmente e senza accorgersene viene preso sempre più dal gioco e finalmente il pallone gli arriva a tiro l'osservatore ora si è trasformato in giocatore ovvero sia in vittima di una disgrazia e come potrebbe essere altrimenti i disastri infatti sono diventati una parte della sua vita lui stesso li ha introdotti nel suo proprio strato personale e accettando involontariamente il destino della vittima ha finito per materializzare la variante sventurata è ovvio che la persona in oggetto non voleva fare la parte della vittima ma ciò non è di nessuna importanza i ruoli li definisce il pendolo se la persona ha accettato il suo gioco perciò se molte persone se per molte altre persone la determinata disgrazia è semplicemente una congiunzione fatale di circostanze per la nostra vittima ipotetica è la logica e regolare conclusione del gioco per il momento per il nostro eroe la probabilità di trovarsi al posto giusto al momento giusto è superiore alla media se ignorerete le spinte dei pendoli distruttivi non non vi succederà mai un incidente o per meglio dire le probabilità di capitare in una simile situazione saranno quasi pari allo zero potreste obiettare e allora come mai in occasione di disastri o cataclismi le persone muoiono a migliaia vuol dire che pensavano tutte insieme contemporaneamente a una catastrofe il fatto è che voi non siete soli in questo mondo attorno a voi vivono masse di persone che lavorano attivamente per i pendoli distruttivi ed emettono energia al loro spettro nessuno si può isolare perfettamente da questa emissione il campo di emissione vi può invadere e senza neanche che ve ne accorgiate cominciate a emettere alle stesse frequenze le origini di questo comportamento si perdono nella notte dei tempi quando l'istinto di gruppo aiutava a evitare i pericoli proprio per questo il campo energetico del passaggio indotto ha un andamento crescente avalanga e risucchia a modo imbuto il compito sarà allora quello di tenersi più lontano possibile dal centro dell'imbuto ciò significa fare in modo di non lasciarsi invadere da informazioni su incidenti e cataclismi non interessarsene non provare sgomento non discuterne e in generale non prestarvi attenzione più del dovuto badate bene però non si dice qui di evitare le informazioni ma di non lasciarsene penetrare come è noto dai precedenti capitoli evitare di scontrarsi con i pendoli equivale a cercare di incontrarli quando vi opponete a qualcosa non desiderate che avvengo manifestate ostilità e mettete con ciò una forte energia alla frequenza alla frequenza del fatto o dell'oggetto che volete evitare non lasciarsi penetrare significa ignorare non reagire all'informazione negativa e convogliare la propria attenzione su programmi e libri inoffensivi se proprio non vi riesce di non reagire allora si può sperare solo nell'angelo custode se per esempio avete paura di viaggiare in aereo non fatelo se c'è paura significa che nello spettro della vostra emissione c'è una frequenza che entra in risonanza con una linea della vita dove è segnata una catastrofe aerea ciò non significa che capiterete assolutamente su questa linea ma che esiste una probabilità se invece non avete il minimo pensiero di pericolo legato all'aereo allora non c'è di che aver paura per contro se provate un'agitazione che non vi è propria prima di un viaggio in aereo sarebbe ragionevole non partire se non se non volare è praticamente impossibile allora si dovrebbe imparare ad ascoltare il fruscio delle stelle del mattino verrete presto a sapere di cosa si tratta e come fare per ascoltarlo bene amici per questo capitolo è tutto che dire se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video e ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo ciao